Vivi Casa Italia. Ogni tua azione conta. Fatti coinvolgere nell'esperienza olimpica. Puoi seguire i tuoi atleti preferiti e tifare per loro con un clic. Puoi far sentire il tuo sostegno e condividere con gli altri il tuo supporto. Segui le Olimpiadi in modo inedito attraverso le storie di Casa Italia. Ogni giorno potrai scoprire tanti contenuti unici e condividerli con i tuoi amici. Utilizza ciò che ti è più facile e fai conoscere a tutti la tua passione per gli atleti azzurri. Puoi seguire Casa Italia ovunque e tifare anche via mobile. Fai crescere il sostegno per lo sport italiano e guadagna sempre più punti. Scala la classifica e vivi Casa Italia, dove ogni tua azione conta. Grazie a tutti.